Allora, ragazzi, ora non vi chiedete che stasciate qua, no? Prima di tutto potete decidere che pavriare e divertire la vostra partner, sicuro? Va bene così, e non dite che non vi chiedo, che non vi chiedo, niente. Allora, ragazze, venite un po' avanti, disponetevi, benissimo, lei va da dietro, invece io gli ho chiesto in avanti. Allora, mi spiego il gioco. Sì, un attimo di attenzione. Allora, mi spiego il gioco. Voi dovete eseguire semplicemente gli omni, quindi siete schiavi, va bene? Loro sono le padrone di casa, quindi le padrone mi danno dei comandi. Allora, voi al momento che batte la musica dovete correre, prendere il palloncino, ovviamente i palloncini sono mischiati con un numero progressivo, quindi uno, due, tre. Quindi voi, prendete uno, date indicazione al vostro partner e lo fate anche il cuore. Poi, senza che il grano, vengono la propria idea, prendete il palloncino, ok? E così via, vince la squadra, esegue correttamente tutto quello che richiede il palloncino. Tutto chiaro? Benissimo. E così via, vince la squadra, esegue correttamente tutto quello che richiede il palloncino. 3, 2, 1, 2, 6, 4, 5, 5, 6, 6, 7! Sono qua a centro! 3, 2, 1, 2, 1! Come qua?